La notte è cupa, vado a dormire vestita, pronta a scappare, qualche raffica nella notte mi sveglia di soprassalto, il mio cuore è triste, penso alla popolazione fuggita senza cibo, acqua, medicine, l'esodo massiccio di gente già duramente provata, e il cuore del padre non sta ascoltando il grido dei poveri? Il grido dei poveri è anche il grido di Sor Marielle Nabberini, sora della carità di Santa Giovanna Antida Touré, per il Dipartimento di Stato americano, su segnalazione dell'ambasciata americana presso la Santa Sede, è una delle dieci donne di coraggio del 2018. Il grido si leva da Bokaranga, nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana, e il 23 settembre 2017 un gruppo di ribelli attacca la città, uccide, saccheggia case e devasta campagne, la gente scappa, molti si rifugiano nella missione delle suore. Con la gente condividiamo una vera tragedia, pianificata dai potenti che vogliono approfittare delle ricchezze del paese, scrive Sor Maria Elena, 73 anni di Sondrio, missionaria in Chad dal 72 al 2007 e poi dal 2007 nel Centrafrica. Il 6 ottobre 2017 i militari dell'ONU costringono le suore della carità e i padri Cappuccini ad evacuare Bokaranga, perché il giorno dopo attaccheranno la città per cacciare i ribelli. Sor Maria Elena però si fa dare un passaggio in moto e torna alla missione per recuperare una macchina. Entra nella cappella e la piccola cruce sul tabernacolo sembra dirle, coraggio, siete sopravvissuti, perché io ero con voi. Sor Maria Elena ringrazia il Signore, un pianto ne serra la gola. Per il suo rimanere in Centrafrica, per il suo essere donna di speranza, lei come le altre missionari in Centrafrica, Sor Maria Elena è una donna di coraggio, ma non solo nel 2018. Grazie.